Con quasi 400 firme raccolte in pochissimo tempo, gli abitanti di Ardea, insieme agli abituali villeggianti, hanno deciso di scrivere una lettera denominata Azione Collettiva 2018. L'intento è quello di ottenere chiarezza sullo stato delle acque in seguito al monitoraggio effettuato da Goletta Verde di Legambiente nei mesi scorsi. Il testo, inviato all'Arpalazio, ai Nas dell'Arma dei Carabinieri e alla Capitaneria di Porto, chiede che vengano avviate delle indagini in merito agli scarichi effettuati dai gnoti nell'entroterra del canale di Rio Torto, alla cui foce, da otto anni consecutivi, i test rivelano un livello di contaminazione anche doppio rispetto al limite massimo previsto. Per la salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, si legge nella lettera, è in linea con la norma 68-2015 sui reati ambientali che permette di intervenire su situazioni di inquinamento pregresso e di fermare attività illegali come il traffico di rifiuti e il sequestro di depuratori malfunzionanti, chiediamo alle autorità di intervenire.